Abbiamo fatto un buon primo tempo, abbiamo fatto un primo tempo ordinato e con pazienza. Nel momento di stanca della partita abbiamo preso il go de pari e abbiamo reagito di rabbia, di pancia più che di testa. Per volerla vincere abbiamo perso ordine in campo e in questo momento è la stagione la qualità principale che deve avere una squadra, visto stanchezza fisica e mentale da parte di tutti, squadre lunghe e tutto il resto, la qualità primaria è l'ordine, noi invece abbiamo perso ordine e questo ci ha portato a perdere la partita al 93.